Cari amici, veramente anche per noi è una grandissima soddisfazione. Devo ringraziare anche io il collega Stefano Graziano, presidente della Commissione Salute, e il collega Picarone che si è impegnato per trovare un avvio di copertura finanziaria, perché questo ci ha aiutato a concludere l'iter legislativo. Il senso di questa misura legislativa è duplice, il primo riguarda il lavoro, il lavoro è l'obiettivo centrale che avrà il governo regionale nei prossimi mesi e nei prossimi anni, il lavoro. Abbiamo migliaia di giovani professionalizzati, a volte costretti ad alimentare un flusso di migrazione giovanile verso altri territori d'Italia, che non hanno possibilità di sbocchi occupazionali in Campania. Bene, questa legge rappresenta un'occasione straordinaria per trovare collocazione di lavoro adeguata alla qualità professionale che esprimono gli associati. non mi pare un piccolo risultato. Il secondo obiettivo che vogliamo raggiungere è relativo alla qualità delle prestazioni professionali che voi potete garantire, e cioè ad un miglioramento, ad una crescita di umanizzazione del servizio sanitario della regione Campania. E quindi è un aiuto a noi a fare un salto di qualità definitivo nell'organizzazione del nostro sistema sanitario. è evidente che un impegno su un terreno che a volte non si presenta con i caratteri della criticità dell'emergenza drammatica, il disagio mentale non fa notizie a volte. si limita a rendere un calvario la vita dei pazienti e la vita dei familiari dei pazienti. Non è possibile avere un sistema sanitario umanizzato senza garantire questo servizio. Voi sapete che stiamo potenziando, dobbiamo farlo ancora di più, i dipartimenti di salute mentale. stiamo lavorando per garantire un'esistenza adeguata alle famiglie, a garantire anche processi di socializzazione. Ma c'è un campo vastissimo di attività che potrà impegnare gli psicologi di base. Dall'uso improprio dei farmaci, dei medicinali, a problemi di contiguità o anche di contatto diretto con le tossicodipendenze, a problemi che riguardano i ricoveri inappropriati che nascono a volte da condizioni psicologiche di particolare sofferenza, al disagio giovanile. Pensate soltanto ai disturbi alimentari e a quello che comporta questa patologia. pensate al fatto che noi abbiamo in Campania un primato negativo che è quello che riguarda il diabete infantile, problemi alimentari, disturbi di vario tipo. allora diciamo che vi sono le fasce estreme della popolazione, soprattutto quelle minorili e quelle più anziani, che sono particolarmente esposte a problemi di sofferenza psichica. Noi siamo davvero orgogliosi di poter offrire ai nostri concittadini e alla nostra comunità anche una qualità del servizio di livello superiore. lavoreremo nei prossimi mesi a potenziare enormemente la medicina territoriale. È uno dei punti sui quali dobbiamo fare salti in avanti di qualità e quindi è un impegno che si incrocia pienamente con la vostra attività professionale e con il vostro impegno. veramente abbiamo costruito nella fase finale di vita del Consiglio regionale una pagina davvero di valore straordinario che colloca la Campania all'avanguardia in Italia. Anche in questo campo potremmo dire Campania a testa alta perché davvero quello che abbiamo fatto oggi è qualcosa che ci fa camminare a testa alta in Italia. Auguri a tutti quanti voi e buon lavoro. Grazie.